allo ragazzi ciao a tutti io son gennaro mi son stufato di fare il muratore e prendere 3.000 euro al mese ma mi son stufato veramente ma faccio lo youtuber così guadagno soldi gratis allora ma c'ho sto cazzo di schifezza di questa cacca così che la faccio in bagno però se gioca allora mi ha detto il frigo è vuoto quindi vado a farlo speso aspettatemi qua vado a farlo speso ah no scusate mi ha detto mia figlia devo schiacciare acqua si coppa ok ok compro un po' di frutta un po' di banale un po' di sprozzare andaggia andate a frelavorare si riesce più una mazza oh com'è che si torna indietro qua oh oh ah così ok togli sto magicolo qua che cacchio è frutta ma niente dolci compro un po' di dolci ma che ti frega te oh magna magna vai ma vuoi magna ah vuoi magna e ma c'ho il ditone grosso ragazzi oh ah ma il detto di no a volte prendo una sberle bagno ma ammazza ma questo è ingrassato e che cacchio è peggio che mia moglie oh laboratorio ah no no io ste cose qua non ne tocco oh gioca a palla gioca a palla ceccione ingresso cucina bagno laboratorio sala giochi stanzo a letto ingresso cucina bagno laboratorio no sto ripetendo eh andiamo fuo? qua c'è? che c'è fu? ah no 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 non mi fanno toccare qua la casa fa cacchè vabbè io non ce l'ho manco la casa però fagli giardino che è sto coso parco giochi garage garage casa cucciolo giardino vabbè stare incoglioni eh 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 datemi i soldi adesso ho fatto sto video vado a me ne soggennaro 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 il numero di iban è il numero di iban è